In Darsena di città, in testata Gandiano, è stato posizionato questa mattina il grande presepe sull'acqua, realizzato dalla Compagnia Portuale in collaborazione con l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto e CMC. Il presepe galleggiante sarà inaugurato venerdì 8 dicembre alle ore 17.30 e resterà in Darsena fino al 6 gennaio. Dotato di un sistema di illuminazione crepuscolare, al tramonto sarà illuminato e visibile dalla cittadinanza a 20 metri dalla manchina, sospeso in acqua.